ciao ragazzi grazie di essere con me oggi oggi voglio fare un video veramente semplicissimo ma per me veramente d'effetto voglio unire due trigger che adoro tantissimo chi sono? l'avrete letto dal titolo il brush in microphone e il in generale magari metterò anche qualche altro biomo sound tipo però principalmente il doodling e ci aggiungerò anche qualche penso più trigger word che chiacchieresse ultimamente sono veramente in fissa con il big brushing sul blue yeti quindi vuoi deciso di dedicarvi un video io ho diversi pennelli benedять nнопarко wir che chi 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 come alcuni di voi sapranno o avranno notato non ho pubblicato un video né lunedì lunedì e ieri venerdì ma sono riuscita a trovare un pochino di tempo stamattina quindi spero che questo video sarà online per oggi pomeriggio ok 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 ecco ok no qui stagite qui stagite qui stagite qui stagite sono quelli che mi rilassa di piccolare e ogni tanto mi piace il ruolo e un po' e un po' e l'alternatore e l'alternatore e un po' a tutti Alla prossima 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 Buenas Alla prossima